Siamo a Gosto del Liro Ti piace? Sì, sembra un paesino non banale, no? Ho sbaglio? Sì, sembra un paesino, non è un paesino, non è un paesino. Sì, sembra un paesino, non è un paesino, non è un paesino, non è un paesino, non è un paesino. Non è un paesino, non è un paesino, non è un paesino. 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 vedi il lago in fondo vedi il il lago in fondo La strada non collaudata. Rifugio Vincino. La strada non collaudata. Qui si entra e vede il lago. Su quella macchina. Da dovevi riprendere quella? Su c'è una cosetta. Siamo in paese dovevi riprendere un po' giù in paese. La fonte di Mariela. Da qui viviamo la fonte di Mariela. Da l'abbiamo? Oh. No. Appi. È giù. C'era una partially più vicini. La vatellina, i fondi, e qui. Poi invece una buona parte va verso St.Morris. Vanno su tanti, molti, vanno su tutti i frantuglieri. Un frantuglieri, un frantuglieri e... Stai tratto il sentiero? Vedi un po' di lago. E poi giù lì, con il buon. E' buono, no? No. E' meglio? Siamo nella natura, non mangiate i fiori e gli alberi, non accendete i fuochi nei boschi, non lasciate i rifiuti nei prati. Hai visto che si vede il lago? Sì, ma poi fermi tu quando fai l'acqua. Eh? Non devi muoverti così. Ci si può muovere però lentamente, hai capito? E' giù la sà si... ... Ma non devi caminare, ma... Fa giù piacere? Ha visto che tutte le raccolte funghi regolamentati, le raccolte frutti di bosco regolamentate, anche i frutti di bosco sono regolamentati. C'è la macchina, ti piace o no tutta la vista del lago? Guarda che vedi che vedi un panorama decoroso. Gli fa la ripresa inclinata. E' la sala del prese. Guarda che la macchina. Guarda che vedi. 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 Affitto si, affitto caldo d'aprile a ottobre, 2060, 1200 euro. E qui ci arrivi con la macchina. Questo vuoi scendere di qua, eh? Non è aperto. Non è aperto. Buongiorno. Senti per andare? Anzi qui è discesa, eh? Comunque c'è una caratteristica di questo borgo qui, non so io. Eh? Penso com'era dura la vita dei... Lo vedo sempre con il servizio esterno. ... 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